Migranti, Comune e Prefettura definiscono le modalità di accoglienza e supporto logistico. 40 profughi destinati da Catania alla Liguria, ma i posti sono sempre meno. Pier Patrizia Lava. Gli ultimi in ordine di tempo arrivati a Genova sono i migranti sbarcati nel porto di Catania. Sono ospitati nella seicentesca bazia del Boschetto. Nella prima fase emergenziale ad occuparsi di loro è stato il Comune di Genova in base all'accordo con la Prefettura. La protezione civile ha offerto il supporto logistico, pasti, posto dove dormire, assistenza insieme alla Croce Rossa. Il tempo necessario per realizzare il CAS e il centro di accoglienza gestito dalla cooperativa Gorà. La palestra ospita gli uomini, mentre un'altra parte del convento è riservato alle donne. In questo momento sono 1.200 le persone fuggite da guerra e fame ospitate nelle varie strutture per migranti della provincia di Genova. Tornando all'Abbazia dei Benedettini, passata nel 1960 all'Opera Don Urione, è una struttura aperta. Tante le iniziative per la Valpocevere e i quartieri genovesi di Cornigliano e Rivarolo. E da tempo, proprio nel convento, è stata creata la casa d'accoglienza Il Boschetto, a disposizione di famiglie con problemi abitativi e per persone sole. Attualmente ospita 120 persone, adulti e bambini e negli spazi enormi c'è anche un ostello per lavoratori trasfertisti.